ciao a gilberto di corsi plc.com in questo video ti spiegherò come effettuare la simulazione dei plc home run utilizzando CX simulator all'interno di CX programmer io sono già all'interno di CX programmer la versione 8.1 all'interno di questa applicazione ho definito un plc cs1 h e la cpu e la 63 il tipo di rete è il controller link con il nodo numero 10 questi dati sono importanti per poi impostarli all'interno di CX simulator allora richiamo adesso CX simulator che si trova all'interno della suite CX one è una versione abbastanza vecchia la versione 1.9 adesso creiamo la nuova sessione di simulazione sistema mi chiede qual è la directory dove voglio che sia installata questa simulazione clicco su browse e magari mi metto sulla mia directory momento scelgo la cpu 63 della cs1 h come plc poi scelgo 1 fh come virtual communication vado avanti ancora avanti avanti ancora quindi lui si setta gli indirizzi e la cpu per la simulazione sistema mi avverte se voglio creare veramente la sotto directory e in pop up mi appaiono queste tre finestre nella prima posso vedere una sorta di virtualizzazione di quello che è il display del plc cs1 h con il run con l'errore con la comunicazione con la network posso nel setting andare a settarmi varie cose qui invece viene riportato quello che è il controller link quindi l'unità di rete che ho definito e di sotto mi trovo riportati anche quelli che sono indirizzi di network di nodo e di macchina poi c'è un'altra finestra piccola e questa sarà attiva nel momento in cui eseguo la connessione e quindi linko in qualche modo il simulatore con l'applicazione che gira sul cx programmer allora faccio connect come vedi il sistema risponde e qua posso vedere il blink il lampeggio della network quindi sono già in connessione adesso cosa devo fare intanto questo lo posso ridurre a icona semplicemente vado su questa icona lavoro online simulator clicco il sistema esegue il link con la simulazione e mi va già in monitor posso switchare ovviamente nelle modalità operative quindi posso portare il sistema in program oppure in monitor il sistema mi avverte mi dice verificare la stanza di anomalie in caso di avviare il PLC devo veramente comodare il PLC in modalità monitor gli dico di sì e il sistema adesso è in run in lavoro da questo momento in poi ho le stesse funzioni di quando sono online con il PLC fisico e posso realizzare forzature impostare valori all'interno delle variabili aprire nuove finestre di monitor fare insomma tutte quelle operazioni che l'ambiente mi consente quando sono collegato fisicamente a un PLC reale la prima cosa da fare però come per un PLC reale è quello di scaricare la mia applicazione all'interno del PLC in questo caso all'interno del PLC virtuale allora ci portiamo qua trasferisce al PLC il sistema mi propone una scelta tra le varie funzioni cioè cosa voglio trasferire gli dico tutto vengo avvertito se veramente voglio trasferire gli dico di sì perché il PLC prima passa in program scaricamento eseguito con successo ok ok sistema è online siamo in modalità monitor adesso per esempio possiamo eseguire una forzatura mi porto qui forzatura on in questo caso ho forzato l'ingresso fisico del PLC 0.13 e mi attiva ovviamente il keep flag emergenza HR 30.0 quindi da questo momento in poi io posso forzare i miei ingressi e le mie uscite fisiche impostare i valori sulle variabili e fare tutte quelle operazioni che normalmente faccio quando sono online con il PLC fisico adesso ci portiamo qua facciamo forzatura off poi ancora togliamo tutte le forzature diamo uno sguardo veloce a quelle che sono le caratteristiche ma soprattutto le possibilità di richiamare una finestra di monitor che viene chiamata finestra di controllo e qui io posso inserire tutti i miei ingressi e uscite fisiche posso inserire HR variabili DM tutto quello che mi occorre e che voglio sia tenuto sotto controllo durante l'esecuzione della simulazione bene per togliere la simulazione molto semplicemente torniamo su questa icona la deselezioniamo e poi richiamiamo le nostre finestre facciamo una disconnessione chiudiamo il programma CX Simulator poi andiamo ancora su file usciamo dal sistema il sistema ci chiede se vogliamo salvare l'outexec dbg possiamo anche dirgli di no vengono quindi chiuse tutte le finestre di CX Simulator e la simulazione è conclusa bene è tutto per questo video ciao da Gilberto